uno dei pezzi più belli di questa affermazione, tra l'altro inciso in Italia, poi l'album, il pezzo, dai fratelli La Bionda, conosci La Bionda, Peppone? Eh, Ramacchesi, chi non conosce la Bionda? One for you, one for me, eh, vabbè, vabbè. Allora, parliamo di di musica ancora e lo facciamo eh questa mattina con un ospite, un amico Peppone, benvenuto a Radio Flash e Flash TV. Ah, che bello, ciao ragazzi, anzi, ciao Fratozzi. Eh, Fratozzo dovreste entrare un po' più dentro il focus della telecamera. Allora, siamo in tanti questa mattina e per cui insomma, vediamo un po', ecco, abbiamo beccato anche il chitarrista, ciao, benvenuto anche a te. Senti, Peppone, da lo scorso anno è partito quasi come una forma di esperimento, cioè quella di eh proporre le canzoni di Fabrizio D'Andrea. Sì, sì, perché anche lo scorso anno abbiamo fatto la prima serata sull'Etna, ha avuto un grande successo con Mario Arcari, che è il fiatista storico di Fabrizio D'Andrea, che suona con Ivano Fossati, grande Mario Arcari, anche Mauro Pagani e suona anche con noi. È diventato da quest'anno il nostro fiatista ufficiale. Wow, fantastico, una sorta di leggenda che arriva a suonare con voi. Ah sì, per me è bellissimo, tipo ieri sera anche ero su Facebook con Ezio Zaccagnini che è il batterista Morandi a Ranieri scenderà il 27 agosto a Zafferana e Tene Scena. Ezio mi diceva, ma guarda che via, ho appostato sul mio Facebook un video che dice, qua sono io con Mario e con Massimo Ranieri, perché loro siamo conosciuti all'epoca, hanno suonato con Massimo Ranieri perché dopo di Andrea giustamente Mario Arcari, suonavo con altri artisti, ha suonato con Ranieri con i più grandi a livello nazionale, diciamo che uno dei primi fiatisti in Italia, Mario Arcari, è una cosa davvero bella. Il 27 agosto abbiamo tutte e due, sia a Zafferana e Tene Scena, sia a Mario Arcari che Ezio Zaccagnini. Ovviamente tu hai sempre scritto il prodotto della musica per te, però a volte può capitare che un artista lo senti fin troppo dentro da sentirlo cucito addosso. Sì, ma è una bella cosa, ti spiego una cosa, più che altro. È stata l'unione tra Mario Arcari e tra me anche Mestre Nuccio Corallo, perché da ragazzi noi siamo cresciuti con la musica di Fabrizio Di Andrè. Insieme a Nuccio Corallo noi ci conosciamo, avevamo io 15 anni, lui 17 anni, avevamo un gruppo, i Love Kids. I Love Kids. I Bambini dell'amore. Abbiamo inciso tre album in tutta Italia, sono usciti all'epoca un video radio Ray Raid e però ascoltavamo molto Di Andrè perché erano i nostri maestri, Di Andrè, Cuccini e altri, però Di Andrè c'era quell'amore particolare per Di Andrè e quindi quando Mario Arcari ha avuto un' esperienza musicale con me nella mia musica, nella musica che producevo io, Mario e Mario dicevo con questa voce perché non fai, facciamo un bel tributo a Di Andrè che... Ma tu ti sbagli già così con questa voce bella? Ma io guarda, noi diciamo non è una tribute band perché facciamo questo omaggio a Di Andrè perché? Perché non lo scimmiottiamo, non lo imito, non... è la mia voce, io canto così tante volte, anzi me lo abbassa di Andrè e mi viene un po' altino perché la verità, tante volte se lo potevo abbassare un 4-5 toni mi veniva un po' meglio, no? Tipo ricordi, tipo era la mia voce più... però dai, davvero una bella esperienza portando le piazze ad Arrano abbiamo avuto un bel successo in piazza, in Gattrovina... Sì sì, ho visto stranamente che quella sera non ero qui nella mia città per cui insomma ho visto da Facebook fotografie, gente che commentava, era comunque contente della serata. Sì perché? Sì perché? Sì perché? Senti con lei c'è una canzone comunque di di Andrè che ti piace particolarmente e che senti proprio fin in fondo. Vabbè sono tutte belle però... Ma c'è sempre una canzone se mi chiedi qual è il pezzo dei Pink Floyd che ti fa impazzire io potrei dire... Tutti, è meglio un album, The Wall ce ne è tanti, io sono cresciuto anche con i Pink Floyd, anzi dobbiamo fare un tribù dei Pink Floyd. Wow! eh eh da dritto io invece conosco The Pink Floyd, This The Rainy Body Outer, allora il primo brano proprio parlando di Pink Floyd che ho suonato in vita mia senza saper suonare la chitarra, ho comprato la chitarra per suonare This The Rainy Body Outer. Addirittura, penso che è incluso l'album The Wall. Tu pensi quando accordo la chitarra lo faccio sempre con questo brano perché ormai ho il suono così per vedere se è accordata bene per vedere dice suona lui è che esce. Bello, bello. Non sapevo fare manco un accordo. Addirittura. E sapevo sono questo ma sei parti così. E mi dice ma sei bravissimo con la chitarra? Facci ascoltare qualcosa altro. No, no, ragazzi, lasciamo bello. Lasciamo stare che meglio. Lasciamo stare che meglio. Senti invece eh adesso concentriamoci sullo spettacolo che stai portando in giro eh ci sarà anche una nuova tappa in provincia di Catania a Zaffari in Italia di cui parliamo tra poco e lo spettacolo ovviamente basato sulle canzoni di Fabrizio Andrea insieme insomma gente che ha ruotato nel mondo di Fabrizio D'Andrea. Qual è una canzone che potremmo sentire questa mattina live alla radio e alla tv? Un giudice. E va eh bella. Cosa vuol dire avere un matto e mezzo di statura? Quello rivela gli occhi e le battute della gente o la curiosità di una ragazza irrivedente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprirse è vero quanto si dice intorno ai nani che siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte le virtù le più indecente. Passano gli anni e i messi e se li conti anche i minuti è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste e batte la lingua sul tamburo fino a dire che è un nano è una carogna di sicuro. Barca il cuore è troppo troppo vicino un buco del buco. Il cuore è troppo vicino un buco di Fu nelle notti insonni, vegliati a lume da rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccare la strada, che dalle banche d'una cattedrale, porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, erbito in terra del bene e del male, allora la mia statura non dispensa più buon umore, a chi ha la barra in piedi, mi diceva vostro onore, e di affidargli al buio, fu un piacere del tutto mio, prima di cenufle, termine l'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ma fantastico, gli applausi sono live, niente applausi con Sparagingo e le diavolerie altrove. Senti, spesso e volentieri si dice che quando un brottore deve interpretare un personaggio, lo deve sentire dentro, cioè tutte le volte che tu fai dentro, che ti succede dentro? Allora, c'è stata una volta, veramente, che è la prima volta che ho suonato Amico Fragile, di Fabrizio Di Andrè, che a un certo punto mi sono sentito posseduto da Di Andrè. Comunque Di Andrè più che altro cerco di interpretare i suoi brani anche, dando una forma anche mia, diciamo, non mette su un brano il gorilla, sul gorilla cerco di raccontare la storia di Di Andrè come la raccontava Brasen, perché Di Andrè ha riarrangiato il Brasen, anzi ha portato in italiano. Brasen è il brano di Brasen, il garo gorilla, ha fatto di andare il gorilla. E sono storie talmente belle che cerchi di emozionare all'interno e cerchi di viverle e cerchi di far capire, di far capire alla fin fine alla gente ciò che diceva Di Andrè in un modo anche nuovo, anche velocizzante i brani. Io la cosa bella è che vedo nei concerti che facciamo di Di Andrè, ragazzi che ballano, che ballano sulla cultura, diciamo alla fin fine, non è musica da discoteca, è musica d'autore, e ballano sulla musica d'autore per me questo è una grandissima cosa. Musica impegnativa la chiamano. Impegnativa, la chiamano impegnativa, si impegna per me musica forte un po' bene. Secondo me bisogna far studiare proprio le canzoni di Di Andrè a scuola, sono delle vere poesie. Ci sono già tante scuole, noi abbiamo inaugurato addirittura una sala Fabrizio Di Andrè a Mister Bianco e ci sono tante scuole dedicate a Fabrizio Di Andrè, l'altra volta ci siamo incontrati con Dorichezzi a Daci Sant'Antonio che c'è una scuola, la scuola media dedicata a Fabrizio Di Andrè. Ho visto che comunque c'è un certo rapporto. Sì, allora Dori, Dori ne pensi, è sempre bello portare avanti la memoria di suo marito, poi è una cosa bella perché lei conosce Mario, Mario Arcari non suona con chiunque, quindi per suonare Mario, lei pensa che è una bella cosa. E l'altra volta quando eravamo seduti a vedere questo premio con Dori, e gli ho detto un altro a Dori, e mi ha detto, mi parla così che mi confondo. è una bella cosa, e quindi ne pensa, ci ha messo tutti i nostri concerti sul sito Fondazione Fabrizio Di Andrè, noi siamo pubblicizzati proprio dal sito Fondazione Fabrizio Di Andrè di tutti i concerti che facciamo in Sicilia. Lo spettacolo che durata ha? Lo spettacolo ha la durata di due ore, dove ripercorriamo diciamo parte dei brani di Andrè, perché poi cosa finisce da due ore? All'inizio è sempre da due ore, un quarto e mezzo per i bis, perché sempre manca qualche brano a cui qualcuno è più affezionato. C'è uno che le chiedono in maniera particolare, qual è? Vabbè, in maniera particolare glielo facciamo, quelli che chiedono in maniera particolare glielo facciamo sempre tipo un bocca di rosa, che non può mancare. Tipo il giubox, no? Bocca di rosa, bene. Che non può mancare, però... Che generità, bocca di rosa. L'altra volta, l'altra volta, quando eravamo a Darrano, ci hanno chiesto come, chiuso l'ondo Raffaele. Ah sì, è vero. Raffaele... Come fa? Come fa? Sentiamo. Raffaele, dai. Che è uno degli ultimi pezzi di Fabrizio. Raffaele, dai. Raffaele, dai. Musica Io mi chiamo Pasquale Cafiere, sto bigadietro del cancerone Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto bigadietro del cinquanta e tre Al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio Per fortuna che abbraccio speciale, c'è un uomo geniale che parla con me Tutti i giorni con quattro infamoni, biganti bamboni, cornute e lacchè Tutti loro con strafe d'ensia, discute minacce e se piglia con me Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e me leggo il giornale Mi consiglio con d'orafe, gli spiego chi pensa e mi vimmo un caffè Ah che bello caffè, pur in caccia lo sanna e fa Qua ricetta cacicci di niella, compagno di cella c'è data mamma Prima pagina, venti notizie, ventuno, ingiustizia e lo stato che fa Si costenna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grandignità Mi sciarballa e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde A quell'uomo certissimo e menso, io chiedo consenso ad ora fare Quell'uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli Mentre l'assessore, che Dio lo pardoni, che dentro l'uomo ce le avevi i suoni Ave basta una mossa, una voce, casco Cristo ce le aveva una croce Con rispetto son fatte le tre, mi ha dita scritto un pulito caffè Ah che bello caffè, pur in caccia lo sanna e fa Qua ricetta cacicci di niella, compagno di cella c'è data mamma Ah che bello caffè, pur in caccia lo sanna e fa Qua ricetta cacicci di niella, compagno di cella c'è data mamma Poi ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bossa c'è la che c'è Io non tengo convendio, chichino stipendio, io non posso sogno a papà Aggiuncate mia figlia inocenza, tuo marito non tiene pazienza Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barbola, fate da sé Poi tenete un cappotto, cammello, con maxi processera, vado più bello Un vestito gessato, marrone, così ci è sembrato alla televisione Per queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza Io già tengo le scarpecine, che dita scritto, pulito caffè Ah che bello caffè, pur in caccia lo sanna e fa Poi ci sta l'inflazione, la compagno di cella c'è data mamma Ah che bello caffè, pur in caccia lo sanna e fa Poi ci sta l'inflazione, la compagno di cella c'è data mamma Poi ci sta l'inflazione, la compagno di cella c'è data mamma Non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi la mi viste chissà E si sufatiscendo i picchisti fidienti si tengono l'immunità Non raffaevo politicamente, io ve lo giuro sarebbe no sante Ma che dinta vostra dappè, e fare chi si deve se stanna spassare A proposito, tengo uno frate che da quindici anni sta disoccupare E l'ha fatto quaranta concorsi, noventa domande, duecento ricorsi Poi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro Chi lo dorme con mamma e con me, chi crema la rabbia che chi stuca a te Che bello ragazzi, che bello, complimenti Allora, senti, lui cantava spesso e momenti anche gli altri diretti Da genovese faceva, che so, il napoletano oppure il sardo Perché non c'è quella che è 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 quella Perché allora io ogni volta ho Mario Alcari, felice di Dianne Che dice? Io gli dico, Mario facciamo creusatema Creusatema, creusatema E quindi sono arrivato al punto di imparare il dialetto genovese anch'io Che sono arrivato a questo punto di imparare il dialetto genovese Che poi è bellissimo, questo brano addirittura l'ho tradotto pure in siciliano L'ho tradotto in siciliano Che dice? Che dice? E allora lui, il brano dice Ombre dei muri, muri dei maionè Ombre facce, facce da marinai Donde le veni, dove le cani, da dove venite, dove andate Nascite duvalionos a mostranua In un posto dove la luna si sta nuova Parcese gallico? E a nuet, e a nuet, e a nuet è un'opuntu, e putella gu E la notte gli ha puntato un colpello alla gola E ammuntala, segherestò Dio Va bene, prima che lo sentiamo Se che fettone io, solo questa frase E la prima strofa, diciamo, è a stare sull'asino E sull'asino gli è rimasto Dio E il tavolo in cielo si è creato un nido Pazzesco Comunque parla di questa Creus Ademai, la classica mulattiera di mare Dove andavano con i muli a caricare Tutta la roba veniva dai porti, dalle navi E li portavano nelle città E c'era questa mulattiera dove lui racconta la storia Di questi personaggi, i pescatori O i mulattieri che camminavano Caricavano questa roba O che si facevano le mangiate Frittura dei pigneucci Anco da portofino Frittura di pesce bianco di portofino Cervello di bo Cervello di bue In un macico vivo In sostanza parla un po' di quella storia E anche addirittura In una frase Cibi strani, eh? In una frase In genovesi che dicevano che sono i manciagatti Diceva Coniglie nagrodus E lepre de cup Lepre de cup Significa lepre di tetto Lepre di tetto sono i gatti No, vabbè, d'accordo Lasciò stare che meglio Sì, si mangiavano i gatti Sì, si mangiavano i gatti Sì, si mangiavano i gatti Sì, ma ho una gattina bellissima Mi dovrei mangiare la mia gattina Giaia mia Non ce la farei mai Già, già, già Senti, noi siamo in chiusura Poi ci salutiamo con Quelsa de Ma Che a me piace tanto Compensa dell'85 Di Fabrizio D'Andrea Un album molto bello Anche insieme con Mauro Pagani Che Mauro Mauro tra l'altro quest'anno è il direttore Pensate Di Cantiere Sanremo Cantiere Sanremo Ha mandato in pensione Aria Sanremo E Mauro Sarà proprio il direttore artistico Sarà lui la selezione di due ragazzi Che porteranno il festival Della canzone italiana Ma parliamo di altro Zafferana C'è un evento importante Un cartello di eventi dell'estate Una delle tappe di questo Una delle serate Di questo prestigioso Cartellone di eventi E' la tua Ed è il 27 agosto 27 agosto 27 agosto Sarà la chiusura Del nostro tour estivo Perché Siamo un po' in giro Per la Sicilia Siamo a Pozzallo Montalbano e Licona Siamo stati Arano Troina Scoglitti Un po' in giro E chiude Questo cartellone Diciamo di agosto Di agosto Questo tour Di sette date Che abbiamo fatto In giro Per la Sicilia Lo chiuderà La grande Perché scenderà anche Come ho detto prima Ezio Zaccagnini Che è il batterista Che ha scritto Insieme a Fabrizio Di Andrè Anzi è stato il produttore Artistico del brano La Fiera delle Maddalene Cantata Da Maxi Manfredi E Fabrizio Di Andrè E scenderà lui direttamente Perché mi ha detto Dice Beh poi Dice come C'hai a Mario Mi ha chiamato C'hai a Mario qua E manco io E manco io Che ho suonato con Di Andrè Dice Sono il batterista di Ranieri Di Gianni Morandi Però io con Di Andrè Ho inciso un album Con Di Andrè Ho detto E allora Ezio non vuoi mancare Quindi il 27 agosto Il nostro batterista Si metterà alle percussioni Ed entrerà Il grande Ezio Zaccagnini E dico È un piacere Vederlo suonare Vedere un Ezio Zaccagnini È considerato Uno dei primi batteristi In Italia E gli hanno detto Quando un giornale Gli ha dato questa classifica Che è il miglior batterista D'Italia Gli ha detto No Il primo è Tuglio Perché è mio maestro Tuglio di Episcopo Per dire Senti un batterista Questa notte Se ne è andato Mi dai là Per estrazzare di nuovo Giancarlo Golzi Dei Mattia Bazzar Grande Insomma Vabbè Ne abbiamo parlato Proprio in apertura In chiusura invece Di questo nostro intervento In radio E in tv Ci vedete Alla radio Ci sentite la radio Ci vedete in tv Sul canale 646 Devo dire che Hai messo su la band Sei raccogliendo i cocci Per mettere su una super band Che potrebbe fare I pezzi di Fabrizio D'Andrea Ogni sera Sembra un bel attributo Uno dei più grandi Della musica italiana E quindi Speriamo anche per questo Di sentire qualche cosa Di nuovo Insomma Che riguarda La tua produzione Artistica Sì L'anno prossimo Sto iniziando a lavorare Sul mio nuovo album Ah ci stai lavorando già Sì E nel frattempo Già ci sono i brani Ora iniziamo a lavorare A registrare Ci sarà anche Il senso a Cagnini Alla direzione artistica Mario Alcari Che registrerà con me Tutti i musicisti Che stanno Ci stiamo unendo In questo tour Per portare avanti La musica Del grande Fabrizio Diciamo che Anche L'inizio di Unione Perché era un progetto musicale Che giri un po' L'Italia Un progetto musicale inedito Bene Allora Peppone Il 27 agosto A Zafferano A Tenecena Non prendete impegni Il 27 agosto Venite Che sarà bellissimo Zero impegni Che è stata già andata via Allora una serata Sotto il cielo Di agosto A Zafferano Dove c'è una bella temperatura Soprattutto Una rietta che temale Ah sì guarda Voglio dirti una cosa Se ci sono i radioascoltatori Ci sono Che ci stanno ascoltando C'è qualcuno dall'altro lato Che a Maria Andre Alla prima chiamata Che arriva qui a Radio Flash Gli offriamo Un biglietto omaggio Per Zafferano A Tenecena Puoi regalare un biglietto Un biglietto omaggio Che potete trovare Al box office Catania A box office Catania Dai Bene 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 Fatevi sentire Che vi regaliamo Un biglietto Per la serata Di Zafferano A Tenea Il 27 di agosto Per cui Zero impegni Sarà una serata Di grande musica Musica di Fabrizio Di Andrè Protagonista Con Peppone Grazie ancora Io a questo punto Vi lascio con Sì è una canzone Che a me ricorda Un mio ex collega No? Questo è un tipo Molto strano Aveva No 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 Aveva una Fiat Diana Non so Quali di voi Si ricordano No una Fiat Diana Non era una Citroen Diana La Citroen La Citroen Quella col cambio Praticamente A cruscotto Era un tipo Molto strano Aveva sempre Di Andrè In macchina Manta Ciao Anzi Vi approfitto Per salutarlo Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie Peppone, grazie, grazie a tutti. Grazie a voi, Nuccio Corallo. Il sax originale, grande emozione allo stato puro. Grazie, grazie ancora. A presto, noi ci vediamo il giorno 27. Giorno 27 agosto, tu sarai sei ospite nostro, invitatissimo. Abbiamo anche Enzo Sangricoli, se non venite per me, venite per Enzo. Dai, su. Vi aspettiamo a 27 agosto a Zafferana. Un abbracione. A presto, grazie a tutti. Buona giornata, ciao.